Oggi parliamo dei baby boomers Ciao a tutti sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale Oggi vi voglio parlare di un target che può essere utile per il vostro hotel ovvero i baby boomers Ma prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale e alla fine del video vi aspetto nella sezione commenti perché voglio sapere voi che cosa ne pensate Allora come vi è venuta l'idea di fare questo video? Io ho fatto un video sul bonus vacanze, ci sono stati tantissimi commenti ma una persona in particolare ha commentato in questo modo dicendo Ma chi ci andrà in vacanza? C'è gente alla quale sono state decurtate le ferie o ci sono persone che sono in cassa integrazione? Queste persone non si possono permettere di prenotare una vacanza perché nel momento in cui il datore di lavoro li richiama a lavorare questi devono tornare E fin qui sì, hai ragione, ma fino a un certo punto perché se si fa di tutto un erbo, un fascio, così come fanno in molti nelle loro attività non parlo solamente di hotel, parlo in generale di business allora si hai ragione, non sai chi è il tuo target, chi è la tua clientela e quindi non sai come si comporteranno ma nel momento in cui studi la tua struttura, studi il mercato e hai una strategia di marketing tutto questo discorso decade oppure può decadere perché sai come si comporteranno molto brevemente i tuoi clienti quindi i baby boomers sono una fascia di mercato da non sottovalutare ma chi sono? Vediamo per prima cosa ha questo aspetto con baby boomers si intendono le persone che vanno dai 56 anni in su che sono nate tra il 1946 e il 1964 circa dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un incremento delle nascite in tutto il mondo secondo gli studiosi questo incremento è stato dovuto dal fatto che c'era ormai una prospettiva di vita più rosea e poi c'era tanta voglia di rinascita e quindi quel periodo di nascita è stato segnato come baby boom si tratta di quella generazione che è andata in pensione prima rispetto ai propri genitori infatti hanno una prospettiva di vita dopo la pensione che va dai 10 ai 25 anni inoltre nel corso del tempo è aumentata anche la qualità della vita quindi abbiamo dei pensionati che sono perfettamente in salute e in grado di viaggiare calcolate che a parte questi io nel mio periodo da dipendente in hotel dovete poter immaginare quante vecchine io abbia visto che viaggiavano anche da sole e come viaggiavano io mi sentivo vecchia a confronto vedevo loro che facevano di tutto e di più e io magari avevo il mio acciacco alla schiena ma torniamo ai baby boomers in questo gruppo noi troviamo anche delle persone che stanno ancora lavorando ma noi adesso stiamo tenendo in considerazione coloro che sono andati in pensione ora tutti i dati che io vi riporto ovviamente non sono stati inventati ma vi sto riportando quelle che sono delle ricerche di mercato che sono state effettuate a livello anche internazionale quindi perché ci interessano i baby boomers? hanno due fattori chiave molto importanti il primo è il tempo hanno a disposizione tantissimo tempo perché non devono stare a pensare alle ferie ma sono in pensione e secondo hanno un alto potere d'acquisto ma attenzione questo alto potere d'acquisto non significa che vogliono spendere i loro soldi così alla cieca no anche loro non disdegnano per l'appunto le offerte quindi nonostante abbiano un alto potere di spesa tengono conto anche di questo fattore nel momento in cui devono decidere dove andare e magari quando prenotare ma vediamo i comportamenti di questi baby boomers allora tendenzialmente prenotano online però rispetto ai millennials loro prenotano principalmente da pc rispetto al cellulare ora mi raccomando i millennials non sono coloro che sono nati dopo il 2000 ma rientro anch'io nei millennials e la mia generazione è quella appunto dei millennials giusto per fare un confronto dove prenotano? principalmente previscono a prenotare sulle OTA ma per un motivo ben specifico perché le reputano più sicure e si sentono anche più tutelati ricordiamoci che noi dobbiamo anche superare lo scoglio di questi baby boomers che devono mettere i dati della loro carta di credito online che è uno scoglio enorme da superare quindi devono vedere dall'altra parte affidabilità, sicurezza e questi sono aspetti fondamentali che devono esserci sul vostro sito perché non disdegnano nemmeno i siti degli hotel stessi ma ricordiamoci che molti baby boomers non hanno molta dimistichezza con internet quindi magari una parte di loro preferisce prenotare su OTA come Expedia dove in un unico posto prenota volo, hotel, transfer chi più ne ha più ne metta rispetto a dover fare vari passaggi ovvio che se voi avete messo il prezzo più basso sul vostro sito magari faranno con lo sforzo di contattare non so, un figlio o magari il fratello che ha più dimistichezza per farsi aiutare con la prenotazione magari nella ricerca di un volo però deve esserci questo aspetto il prezzo più basso ovviamente lo dovete avere voi per quanto riguarda invece la ricerca degli opinioni su dove trovare l'ispirazione per il loro prossimo viaggio i baby boomers non seguono la tendenza di questo periodo storico quindi loro cercano consigli e ispirazione principalmente offline chiedendo ad amici e parenti ma ovviamente cercano anche online ricordiamoci che utilizzano come dispositivo principalmente il pc qual è lo scopo del viaggio dei baby boomers? perché viaggiano? allora se pensate che questi vogliono polterire nel vostro hotel non è così allora dobbiamo creare delle offerte ad hoc perché loro vogliono vivere delle esperienze vogliono visitare le città quindi vogliono fare qualcosa durante il loro soggiorno vedere quelle città che vanno viste almeno una volta nella vita certo poi tra le motivazioni del loro viaggio a volte inseriscono anche la visita ad amici e parenti ma quelle che vi ho detto prima sono le motivazioni principali dei loro viaggi e quali mezzi di trasporto utilizzano? ora grazie anche all'avvento dei voli low cost utilizzano molto i voli per i viaggi internazionali ma per quanto riguarda i viaggi nazionali a pari merito vengono utilizzate sia aerei che auto privata quindi mi raccomando dovete segnalare se avete anche un parcheggio a disposizione perché i baby boomers tendono a viaggiare in questo modo quindi detto questo riepiloghiamo un attimo con 5 consigli per migliorare la tua strategia di marketing come prima cosa rendi tuo sito semplice fai in modo che le prenotazioni sul tuo sito si possano effettuare con semplicità ricorda sempre di avere il prezzo migliore sul tuo sito rispetto agli OTA punta la tua comunicazione sulle attività che hai nei dintorni quello che si può fare anche all'interno della tua struttura ovviamente queste persone non disdegnano anche un po' di relax in spa crea pacchetti su misura non ti limitare semplicemente a dire stanza superior di tot metri quadri perché loro non interessa vogliono vivere esperienza quindi magari propone il corso di cucina la raccolta di funghi il massaggio spa chi più ne ha più ne metta ma create delle offerte appetibili per il vostro target per quello che loro stanno effettivamente cercando e ultimo consiglio attiva programmi di fidelizzazione è stato dimostrato da recenti studi che i baby boomers tendono a tornare negli hotel dove hanno attivato dei programmi di fidelizzazione quindi perché non utilizzare questa strategia di marketing se funziona come sempre spero di avervi aiutato con questo video vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e besos grazie a tutti grazie a tutti